buongiorno a tutti allora magliettina del gigione della settimana con la frase veloce veloce da recarsi le orecchie e partiamo subito perché si sono disputate le prime due partite degli ottavi di finale per il campionato del mondo femminile come ben sapete l'italia non c'è già più ha preso il gol da kuruku dal sudafrica si è fatta autogol eccetera eccetera perso 32 è andata a casa comunque la prima sfida è stata svizzera spagna e andiamo a vedere com'è andata perché partita curiosa partita curiosa ci sono state delle cosine anche interessanti e bisogna dire però pensavo a un maggiore equilibrio diciamo così però non vi dico chi che ha vinto chi non ha vinto eccetera eccetera lo vedremo assieme piano piano lembe lembe vi racconterò quello che è successo anche perché praticamente comunque al quarto minuto salvatagione della questa è tutta da raccontare perché veramente è da raccontare cross dalla sinistra c'è un tocco difensore attaccante con la palla che sta andando nell'angolino il portiere vola a salvare un po' aiutato dal palo e poi anche dal stesso difensore che allontana la palla il guaio che non l'allontana a sufficienza la palla arriva a centro area dove c'è appostata una giocatrice della spagna che da buona posizione calcia le difendenti anziché andare incontro al pallone io arrivo la palla c'ho paura la palla passa in mezzo alle due e termine in rete quindi dopo neanche cinque minuti la spagna in vantaggio poi però c'è il patatrac 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 perché la giocatrice spagnola dalla trequarte ma neanche da centrocampo praticamente non guarda siamo all'altezza del cerchio del centrocampo leggermente defilati sulla destra non guarda e cosa fa? ribunta la palla indietro il portiere era a metà campo a sua volta e quindi c'è un autogollonzo clamoroso peggio di quello della Orsi l'altro giorno veramente una cosa clamorosa ma se non erro lo stesso autogoll lo fece la Spagna in una gara che poi stravinse eccetera eccetera a un mondiale che non ricordo se era il 2018 o il 2022 vabbè comunque 1 a 1 e palla al centro poi c'è un'altra azione della Spagna sempre nel primo tempo siamo al diciassettesimo cross in mezzo la palla passa arriva rimbalzando sulla giocatrice numero 7 che anticipa la giocatrice svizzera la schiaccia di testa e la mette all'angolino ancora altro cross dalla sinistra e ancora un gran gol della giocatrice andatelo a vedere perché veramente ha mandato a spasso quattro giocatrici e il portiere con una finta perché è arrivato questo pallone l'ha controllato se l'è spostato dal piede sinistro al piede destro dal piede destro al piede sinistro mandando proprio a spasso le giocatrici elvetiche e poi la messa nell'angolino poi arriva anche il quarto gol della Spagna sempre nel primo tempo perché veramente tutto nel primo tempo calcio d'angolo batti e ribatti in aria tiriti che tiro io tiro io che tiri tu alla fine tira la giocatrice spagnola e la palla passa proprio in mezzo tra portiere e giocatore che è praticamente sulla riga sono a mezzo metro davanti alla riga e la palla passa in mezzo a loro due senza che nessuno dei due intervenga anche lì il portiere c'è una parapiglia tu ti devi buttare in mezzo e prendere la palla sempre poi c'è finalmente nella ripresa al 55esimo un'occasione per la Svizzera abbastanza colossale bella azione tutto quello che volete però poi la giocatrice gli arriva il pallone da mettere dentro invece di tirare una mina visto che sei libera in mezzo all'area a sei sette metri dalla porta ti arriva un pallone a spiovere lo devi colpire di collo pieno scusate anche il bronco di ria no va col piattone a passare la palla al portiere e poi arriva anche la quinta rete della Spagna e qua è un errore difensivo palla recuperata passaggio preciso giocatrice che entra in area controlla tiro a giro e palla all'angolino Svizzera 1 Spagna 5 pensavo anche il bronco di riace ci è rimasto male pensavo in una gara più equilibrata tra Spagna e Svizzera invece le spagnole si sono dimostrate nettamente superiori e anche se hanno voluto fare il regalino c'è un regalino un gollonzo poi la Svizzera nell'unica occasione che hanno fatto vedere poi magari ne ha avute anche di più ma sono gli highlight durano due minutini e quindi praticamente con sei reti ragazzi miei sei reti fanno vedere le sei reti 5 a 1 Spagna sulla Svizzera e questa Spagna si candida decisamente ad essere una delle squadre papabili per la vittoria finale oppure la Svizzera che è troppo scarsa ma andiamo a vedere l'altra l'altro ottavo di finale quello tra Giappone e Norvegia vedremo se è stata una gara più equilibrata o se ahimè anche qui una delle due è stata nettamente superiore all'avversaria io vi avevo detto attenzione al Giappone ma attenzione anche ai normali norvegesi adesso inizierà subito gli highlight tanto devo dire che questa Spagna è abbastanza da prendere proprio con le bollone di quelle grosse comunque Giappone Norvegia norvegesi in rosso giapponesi con una tenuta un po' così pronti via al quindicesimo autogollonzo è la giornata degli autogollonzi cross dalla sinistra la giocatrice interviene col piedone così per cercare di allontanare la palla anziché allontanarla la prende di suola e la spedisce nell'angolino battendo il suo portiere dopo neanche quattro minuti al ventesimo pareggio della Norvegia questo è un gran gol ragazzi cross dalla destra palla che arriva al centro area colpo di testa bellissimo intorsione con tanto di tac e palla all'angolino alto un gol veramente bello 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 poi c'è un altro errore della Norvegia dopo l'autogollonzo e questo veramente è clamoroso azione giapponese palla centro area la giocatrice cerca di restituirla tene palla spalle alla porta cosa fai? solitamente cerchi di passare la palla a una tua compagna che magari è messa meglio per tirare no? tu sei spalle alla porta in area giocatrice che ti sta adosso non puoi girarti eccetera la dai indietro interviene la giocatrice norvegese per passarla la compagna in area invece fa un passaggio un po' così sul quale interviene l'altra giocatrice giapponese che controlla tira tiro intervengono le norvegesi in scivolata per cercare di impedirglielo cosa succede? deviazione beffarda con la palla che si impenna spiazza al portiere e regala il gol del 2 a 1 al Giappone quindi passaggio all'attaccante e deviazione che teoricamente non è stata considerata perché il tiro era nello specchio della porta sapete benissimo che quando un giocatore tira e il pallone anche se deviato è all'interno della porta cioè va verso la porta il gol viene dato a chi tira la regola è quella indifferentemente se la definizione è influente o ininfluente non cambia nulla se tu tiri e il tuo tiro è nello specchio della porta cioè si vede la porta è 7 metri rotti quindi se tu calci il pallone magari anche raso terra poi uno può dire ma però se non c'era la deviazione lo parava al portiere cosa ne sai magari fa la baccata quindi per cui presumo abbiamo dato il gol alla giocatrice giapponese però due regali della Norvegia il primo noto gol il secondo veramente gli ha passato la palla questa cosa ha fatto ha anticipato il difensore ha calciato di sinistro interviene il giocatore la giocatrice norvegese per cercare di impedirglielo gli mette davanti il piede poi all'ottantesimo imperfetto contropiede passaggio filtrante giocatrice che si beve la difesa norvegese in velocità perché gli ha fatto uno scatto da paura entra in area e sull'uscita del portiere la beffa mettendo la palla all'angolino alla sua sinistra prova a reagire la Norvegia al novantesimo con questo bel colpo di testa perché arriva un cross dalla destra palla sul secondo palo colpo di testa della compagna per rimetterla in mezzo colpo di testa della giocatrice norvegese leggermente centrale ma il portiere era sull'altro palo vola e con la manuna riesce a deviare e a salvare il portiere giapponese quindi Giappone e Norvegia 3 a 1 e quindi le due prime quarte finaliste sono la Spagna e il Giappone poi vedremo adesso andiamo a vedere se si affronteranno dei quarti di finale oppure no perché probabilmente ci sarà già il prossimo quarto di finale o magari sono già spostate no una da una parte una dall'altra no Spagna da definire Giappone da definire quindi Giappone e Spagna non si affronteranno affronteranno altre due squadre che vedremo non voglio saperlo non mi interessa saperlo oggi si è già giocata nella notte da sabato e domenica la gara che avrebbe dovuto giocare l'Italia cioè Olanda-Sudafrica ma ne parleremo nella notte di tra domenica e lunedì mentre oggi alle 11 ora italiana ci disputerà Svezia-Stati Uniti lunedì si giocherà Inghilterra-Nigeria-Australia-Nanimarca mentre martedì si giocheranno le ultime due gli ultimi due ottavi Colombia-Giamaica e Francia-Marocco vedremo come andranno io so già il risultato di Olanda-Sudafrica ma ve ne parlo tomorrow tomorrow detto questo ragazzoli diciamo che i risultati dai a parte la Spagna che va bene mi aspettavo la davo favorita eh sia la Spagna che il Giappone le vedevo favorite perché però non mi aspettavo una vittoria così schiacciante della Spagna sulla Svizzera viceversa Giappone-Norvegia non è tanto la vittoria del Giappone ma è la Rakiri della Norvegia perché due gol su tre sono dei regali della difesa norvegese un autogol e quel passaggio scriteriato cioè tu in area di rigore non puoi passare la palla in quella maniera lì la spazi via PEM calcio e via la mandi oltre la metà campo no il passaggino alla compagna con giocatrici anche delle altre squadre in area non puoi farli ste cose ma son ragazze se questi errori qua si vedono qualcuno direbbe beh ma vedi il calcio femminile non lo puoi paragonare a quello maschile giusto però certi gesti tecnici certi colpi di testa certe azioncelle denotano che queste ragazze la tecnica ce l'hanno poi che non abbiano or fisico che ogni tanto commettano degli errori grossolani eccetera 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 ci sta il calcio è per uomini però le ragazze tecnicamente nonostante gli errori nonostante tocchi giochicchiano di maledetto come direbbe Diego Abbatantuono poi è logico come hanno tecnica hanno anche questi svarioni clamorosi che non si possono vedere però sono errori che fanno anche i nostri certi retropassaggi ve li ricordo quelli di Bergomi c'è costato una vittoria in un derby e la sconfitta di Firenze i passaggini perché non guarda e passa la palla alla Carlona e stiamo parlando di un campione del mondo poi dopo lui si offendeva no? perché faceva notare il crosshands per il colpo di testa a volo d'angelo di Serena in un derby però gli hanno anche fatto notare il passaggio a Borgonovo per il 4 a 3 clamoroso della Fiorentina sull'Inter all'ultima giornata di andata del campionato 88-89 quello famoso dei record 58 punti su 68 libidine 26 vittorie 4 pareggi e 2 sconfitte tanta roba quindi ragazzi c'è tanta tecnica ma ci sono anche tanti errori vedremo come sono andate Olanda o Sudafrica Svezia e Stati Uniti domani io intanto vi saluto vi ringrazio devo dire che mi sono gustato gli highlights con mucho gusto adesso vado a vedere come è andata come sono andate le qualifiche della MotoGP del Gran Premio di Gran Bretagna e poi dopo me ne vado a dormire salteranno le news con il news ma siamo nel weekend sapete che nel weekend spesso le news con il news saltano le riprenderemo se riesco o lunedì o martedì magari riesco domani e chi lo sa vedremo detto questo ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao